Ciao, ciao, sono Vanessa e farò la capuzione con un bicchiere e con due bicchieri e con un bicchiere lo farò così poi lo libererò e farò così con un bicchiere così ecco, con due bicchieri così ce l'ho fatta ecco, questo era quello che stavo a fare lo farò 5 volte con due bicchiere 5 con 1 prima volta seconda volta terza volta quarta quinta con il primo con il bicchiere la seconda scusatemi scusatemi eh terza volta ecco, quarta volta quinta volta che è l'ultima e farò per l'ultima volta con uno e due ah ah quelli veloci con il bicchiere di due ce la faccio ecco ecco e questo è quello che stavo a fare eh ciao alla prossima prima di andarmene dovrei dire una cosa vedete perché non ha cantato perché ho una voce stonata e due cose vi devo dire va uno perché ho la voce stonata e la persona non canta volviamo a cantare tipo meraviglioso amore mio meraviglioso come un quadro che ha dipinto Dio con dentro il nostro nome meraviglioso amore mio bisogna averne cura spingimi forte su di me così non ho paura mai così non ho paura mai eh basta perché sono troppo stonata già vi ho vi ho fraccellato scusatemi sono stonatissima perciò non mi criticare per la mia voce scherzando per la mia voce mi canso sono abituata e la scuola mi criticano tutti quindi sono stonatissima faccio schifo poi sono andata dai professori e mi hanno detto che sono intonata perché l'ho cantato la canzone di tante curi e te scusatemi non sapevo quello di cantare loro mi hanno detto tante curi e te e io ho cantato e mi hanno detto che sono intonata però intonata vuol dire che sono brava e stonata vuol dire che non ce la faccio sono me no e non mi piacerebbe sapere che sono una me però lo sono e lo so e mi dispiace un po' vabbè comunque e la seconda cosa è che io faccio dei tutorial perciò posso incominciare con tutti quelli che volete ora incomincerò con con la chitarra che ora se la prendo la faccio vedere ecco qua se la vedete chitarra classica non vi aspettate cose chitarra classica e poi tra la pianura con la pianura con la pianura e poi con il flaudo dolce con il flaudo dolce i tutorial finora sono questi scusate perché me l'hanno sporcato tutto ecco vi sono qualcosa la marcia questa è la marcia però vi insegno un sacco di cose basta che mi disombrano e io ve lo suono perciò farò un sacco di tutorial ciao a presto